Buongiorno, sono Luigi Canundo, mi occupo di implantologia ormai da circa 30 anni e specificamente mi occupo di rigenerazione ossea. Con Dental Campus abbiamo deciso di condividere le mie esperienze su questo topic e specificamente sul rialzo del seno per via traspestale. Questa procedura è stata descritta spesso come una procedura basica ma con delle importanti limitazioni di utilizzo. A mio modesto avviso invece il rialzo del seno per via traspestale può essere utilizzato praticamente in tutte quante le occasioni nei quali è necessario colmare il deficit verticale nella zona del macellare posteriore. Lo scopo di questo corso è quello di condividere step by step tutte quante le procedure e tutti quanti i background biologici che necessitano per avere una chirurgia assolutamente safe.